Cosa succede quando il gesto disperato di un fratello cambia tutto? Nella seconda stagione di Endless Love, Tariq compie un'azione sconvolgente che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, ruba il corpo di Ozan dalla sua tomba poco prima della riesumazione. Ma perché? Tariq è convinto che questa sia l'unica via per proteggere sua sorella Zeynep dall'accusa di omicidio. Con un piano meticoloso, Tariq agisce sotto la copertura della notte, evitando telecamere e occhi indiscreti. Ogni passo è calcolato, ogni movimento rischioso. La sua determinazione a salvare Zeynep lo porta a compiere atti impensabili, mettendo a rischio la sua stessa libertà. Nel frattempo, Kemal e Nian sono già a conoscenza della verità, la vera responsabile della morte di Ozan e Asu. Ma riusciranno a dimostrarlo? L'intrigo si infittisce quando Tariq nasconde il corpo, ignaro che Kemal e Nian stiano raccogliendo prove contro Asu. La tensione è palpabile, ogni personaggio è coinvolto in un gioco pericoloso di inganni e segreti. Tariq si ritrova sempre più intrappolato in una spirale di azioni disperate, mentre cerca di proteggere sua sorella. La verità potrebbe distruggere tutto ciò che ha cercato di salvare. Nel frattempo, Asu, profondamente ferita dalla decisione di Kemal di chiederle il divorzio, trama una vendetta machiavellica. Con l'aiuto di Tufan, organizza una messa in scena perfetta per simulare la sua morte e incastrare Kemal. La detective Merkan, incaricata del caso, è convinta che Kemal sia colpevole. Le prove, accuratamente manipolate, puntano tutte verso di lui. Determinata a fare giustizia, Merkan emette un mandato di arresto. Kemal, consapevole del complotto, fugge, lavorando nell'ombra per raccogliere prove della sua innocenza. Parallelamente, Nian affronta il dramma della riesumazione del corpo di suo fratello Ozan, cercando di mantenere la calma mentre la verità emerge. Ogni nuova scoperta complica ulteriormente la situazione, mettendo in discussione tutte le ipotesi precedenti. E proprio quando sembra che la verità stia finalmente venendo a galla, un colpo di scena, la tomba di Ozan è vuota. Chi ha rubato il corpo? La risposta è sconcertante, è stato Tariq, ignaro del fatto che Nian e Kemal sanno già che Aswa è la colpevole. La sua decisione, spinta dalla disperazione e dall'amore fraterno, ha creato un intreccio di bugie e inganni. Kemal e Nian, scioccati e confusi, devono affrontare questa nuova realtà. Devono scoprire dove Tariq ha nascosto il corpo e come affrontare questa crisi senza distruggere ulteriormente la loro famiglia. Ogni personaggio si trova ora di fronte alle proprie colpe, paure e desiderio di verità e giustizia. La lotta per la verità è più intensa e personale che mai. Tariq, pur avendo agito con l'intento di proteggere, deve affrontare le conseguenze delle sue azioni. Mentre che Malenian continuano a cercare una via per redimere le loro vite e ottenere giustizia per Ozan, il pubblico rimane col fiato sospeso, in attesa di scoprire come si risolveranno le intricate dinamiche familiari e quale sarà il destino dei personaggi coinvolti.